Wabalabadabdab e bentornati su No Mamamazzo, continuiamo a parlare di Dilan Dog, è uscito l'8 maggio il Colorfest numero 37 che contiene due, stavolta due, storie inedite. Come sempre l'albo totale è di 98 pagine, mentre il costo anche per questo albo è aumentato di 40 centesimi, quindi non più 5,50 ma 5,90, è sempre trimestrale. Le due storie contenute hanno ricordato a Roberto Recchioni quei film che proiettavano in America al prezzo di un solo biglietto, proiettavano due film solitamente di durata media, quindi dei mediometraggi, e erano di genere, quindi solitamente genere horror. Anche Tarantino e Rodriguez ne hanno fatto appunto un omaggio con Grindhouse e Planet Terror, se non ricordo male. Qua abbiamo la stessa cosa a livello fumettistico, quindi ci sono due storie, entrambe da 45 pagine circa, e entrambe le storie riportano un tema un po' horror, uno più sull'aspetto fantascientifico e l'altro più sull'aspetto da slaughterhouse, da non aprite quella porta. La prima storia dal titolo Quell'Inutile Complicazione è scritta da Diego Caglielli ed è disegnata ancora una volta da Arturo Lauria o Lauria. Ancora una volta perché? Perché Lauria è stato anche il disegnatore della serie regolare dei D-Landog numero 416, di cui ho fatto anche lì una recensione, una disamina, se così vogliamo, ve lo metto qua nelle schede, qua in descrizione. In quel video dicevo che nonostante fosse tutto molto buio nel numero disegnato da Lauria, il contorno delle pagine non era nero ma era bianco per contrastare appunto con l'interno delle vignette. Qui invece hanno fatto un discorso diverso, ovvero lo sfondo è nero, per dare sempre questa oscurità, ma all'interno ci sono molti molti colori, ciò nonostante Lauria riesce comunque con un gioco di luci e ombre a far sembrare tutto buio, tutto come se fosse illuminato da una luce al neon. Dà anche un po' una certa sensazione di quei racconti, di quei film da investigatore privato ambientati negli anni 40. Nonostante ci sia il nero fuori e il nero all'interno, c'è comunque una griglia, una griglia abbastanza classica e mi piace molto che sia contornata con il colore principale che c'è nelle tavole, quindi qua l'abbiamo fucsia, qui l'abbiamo gialla, qui l'abbiamo azzurra e così via. Questa scelta cromatica mi è piaciuta davvero tanto. Lauria sembra proprio che si diverta a comunicare più che col disegno stesso, proprio con il gioco che fa nel modo in cui lui dosa le luci e le ombre nel disegno. Quell'inutile complicazione sembra che abbia un doppio riferimento sia alla scimmia che è stata sottoposta agli esperimenti da parte del governo, sia a questa figlia, Sandra, che spesso nelle nuove coppie, quando si instaura una relazione con una donna che ha una figlia, può essere vista da molti uomini, molti uomini che non sono pronti ad affrontare una relazione seria, come una complicazione. Io non direi mai un'inutile complicazione, ma ci sono anche uomini del genere. Dylan è uno di questi uomini o è un uomo che sarebbe pronto ad amare una donna e anche la figlia che ha nella sua vita? Ovviamente Dylan è un eterno romantico, è una persona che si innamora sempre delle persone, delle donne con cui va, e quindi presumo, e lo scopriamo anche nel finale, che non sia quel tipo di uomo che considera una figlia nata da una relazione precedente un'inutile complicazione. Mi piace questo parallelismo così terreno e così fantascientifico, in cui questa figlia, Sandra, e la scimmia stessa sono entrambe diverse, entrambe alienate da questo mondo. Una perché è stata tolta dal suo habitat naturale e gli hanno fatto degli esperimenti che l'hanno modificata geneticamente, l'altra semplicemente perché è una bambina un po' diversa, un po' emarginata, un po' nerda, se vogliamo, che viene presa in giro dai bulletti della scuola, se vogliamo. Ed è proprio questo filo conduttore che fa intrecciare le anime della scimmietta e di Sandra. Mi piace molto anche come viene affrontata quell'inutile complicazione, in due modi diversi. Da una parte vediamo il modo violento da parte del governo di eliminare a tutti i costi la scimmia, eliminare le prove di quello che è successo della sua fuga, togliere dall'esistenza quella complicazione. Dall'altro canto invece vediamo Dylan Dogg che adotta la strada della comunicazione, la strada del dialogo, e lo fa sia con la scimmia sia con Sandra. Purtroppo vediamo una fine diversa per questi due protagonisti. La scimmia purtroppo da un colpo volante viene uccisa proprio alla fine, mentre Sandra fortunatamente, che è una bambina innocente, viene salvata da Dylan Dogg, ma salvata non solo dalla situazione pericolosa che stava vivendo, ma forse anche salvata dalla situazione di emarginazione che stava vivendo. Forse Dylan Dogg, questo Dylan Dogg di questo specifico universo, di questa specifica storia, perché vi ricordo che, come dice Recchioni stesso, ogni Dylan Dogg può essere un universo a sé, quindi non necessariamente il prossimo Dylan sarà lo stesso Dylan di questa storia. Questo Dylan Dogg, vediamo che accetta di prendere con sé la fidanzata di turno, ma anche la figlia, per aiutarla, per comunicare con lei, per dargli la famiglia che non ha avuto con il suo reale padre, quindi magari toglierla un po' anche da questa situazione di emarginazione, di diversità o di difficoltà a interagire con gli altri, con le altre persone. La seconda storia invece è dal titolo La Fossa degli Angeli, un titolo che mi piace tantissimo perché io adoro gli ossimori, mi piace il fatto che ci sia il termine angelo, che è un termine molto alto, molto elevato, e la fossa, qualcosa che richiama di più l'inferno. E non è a caso, non è a caso, questa cosa si scoprirà poi durante la storia. La sceneggiatura è di Dario Sicchio e i disegni invece sono di Riccardo Torti, che dopo la prima storia un po' psichedelica di Lauria torniamo a dei disegni più tranquilli, con una fotografia più pastello, più naturale. E ammetto che come stile, uno stile più pacato, mi piace di più, soprattutto quando voglio vedere i colori, perché dopo anni e anni di Dilan Dog in bianco e nero una storia lineare, con dei colori lineari, mi piace da vedere, ma è bellissimo anche vedere, sperimentare Dilan Dog con disegni del calibro di Lauria. Questa storia mi ha ricordato molto uno di quegli horror tipo non aprite quella porta, ovvero dove tu vai a visitare una casa sperduta di una cittadina, sperduta e trovi una famiglia non troppo evoluta, non troppo educata, civilizzata, che dietro una maschera di ignoranza cela anche difetti ben più gravi dell'ignoranza, come appunto la follia omicida. E infatti anche qui, come in molte pellicole horror, il cattivo è un redneck, un contadinotto, super bigotto, ultra conservatore, che probabilmente era assente al catechismo quando hanno insegnato la carità cristiana, ma che comunque lui vuole usare la religione come scudo, come scusa, per veicolare la sua violenza. Quindi non vuole essere assolutamente una critica alla religione in sé, questo numero, ma alle persone bigotte, ignoranti, che non sanno probabilmente nulla della profondità della religione stessa in cui credono di credere, ma che la sfruttano, la plasmano a propria somiglianza per poter fare quello che vogliono e per poterla usare come scudo per le proprie paure che spesso sfociano in rabbia, violenza. La paura sfocia in rabbia e violenza. Ed è purtroppo, purtroppo, troppo reale anche fuori dai fumetti. La scena della ragazza mutilata è davvero straziante, è stata disegnata a livello cinematografico con un crescendo che davvero ti coinvolge, mi è piaciuta tantissimo. E se notate nel flashback, tra l'altro abbiamo il flashback in bianco e nero, in scala di grigi, in realtà nel Colorfest, che è una cosa che mi è piaciuta, diciamo. Se notate nel flashback, questa povera ragazza nel flashback non era incinta, è incinta adesso. Questo significa che è ancora più raccapricciante, se ci pensate, quello che le è successo. È raccapricciante sia perché non è stata assolutamente messa incinta dalla persona con cui è stata rapita, ma da quel contadinotto, e sia perché abbiamo visto cos'è la progenie di quel contadinotto e quindi è molto probabile che dentro quel grembo ci sia un altro mostro che, però, non si vede. Probabilmente nascerà. Una cosa che mi è piaciuta molto di questo numero è la presenza di Graucio, e non intendo una presenza buttata lì a caso, come a volte capita, che è motivo per cui molti lettori di D-Landog non amano il personaggio, ma presenza nel senso proprio che è presente nella situazione, è presente nella storia, ovvero, sì, lui fa le sue battute, ma sono anche battute che non sono degli sproloqui a caso, ma sono battute come potrebbe farle qualunque personaggio per sdrammatizzare la situazione. Quando interagisce col cattivo di turno gli chiede se è fuori di testa, quindi è genuinamente preoccupato anche per la sua vita, per la sua incolumità e per quella di D-Land. D-Land, quindi vediamo un Graucio normale, non fuori di testa, fuori di cervello, e vediamo un Graucio molto preparato alla situazione, preparato anche più di D-Land stesso, e con preparato mi riferisco alla scena in cui controlla che il fucile sia effettivamente scarico, quando nota che non è scarico e toglie i proiettili dal fucile, e anche per tutta la parte in cui chiama Tiffany, che poi si scoprirà in realtà era un suo cuscinetto di emergenza che aveva attuato perché era, diciamo, preoccupato della situazione in cui potevano mettersi. Quindi mi è piaciuto molto come hanno impacchettato, infiocchettato questa storia, sono molto contento di questo albo, come sempre, il Colorfest sta diventando sempre di più una garanzia, anche nei suoi bassi sono comunque storie sperimentali, a degli alti davvero favolosi, l'unica, se devo proprio trovare un pelo nell'uovo, il titolo mi sembra un po' semplicino, nel senso doppio orrore, perché ci sono due storie, però non è che quando ci sono tre storie si chiama triplo orrore, però vabbè, a parte quello, diciamo, il clima che volevano dare era quello appunto dei cinema americani che davano due pellicole horror di mediometraggi, quindi ci sta, ci sta che hanno voluto dare questa, questa formazione di questo numero. Il prossimo numero è in edicola dal 6 agosto, è il Graucio Terzo, come vedete sono tre storie complete, non c'è la parte inedite, quindi vuol dire che le hanno già pubblicate da qualche parte, quella qualche parte è il Grauciomicon, quindi se avete letto il Grauciomicon troverete le stesse identiche storie, se non trovate, se non avete come me, non siete in possesso del Grauciomicon, comunque sarà una lettura per voi inedita e quindi ne parleremo insieme il 6 agosto. Io vi ringrazio come sempre per avermi seguito fino a qui, vi ricordo che a fine mese ci sarà di nuovo una live su Dylan Dog sempre con me, ovviamente, Luca DJ e Kuro del canale di Kuro, avremo degli ospiti e ci sarà un tema specifico per la puntata, diciamo, per la live che vi dirò all'ultimo momento. Ok, come sempre con l'inchino e con l'imbuto io vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video.